E adesso è arrivato il momento di collegarci con il responsabile dell'equip territoriale della cooperativa Emmaus. Benvenuto Domenico. Grazie a voi e buona domenica a tutti. E un volto noto. Come stai Anna Maria? Bene, bene, anche se a distanza. Noi ci sentiamo, sei un amico di Padre Pio TV, sei un artista, ma di questo magari ne parleremo in un nostro prossimo incontro. Oggi ci ritroviamo perché vogliamo promuovere un'iniziativa virtuale, l'Open Day del 14 e 21 novembre, sulle tematiche della dipendenza. Noi sappiamo essere in prima linea l'Associazione Comunità sulla strada di Emmaus per riaccendere la speranza ed essere accanto a tutti quei giovani che vivono difficoltà e dipendenze. Domenico, presentaci un po' questo progetto e poi magari andiamo nel dettaglio. Intanto l'associazione, il progetto, l'iniziativa di questo Open Day rientra all'interno di una proposta che il CNCA, che è il coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza, ha fatto a tutte le associazioni che aderiscono a questa comunità. Sollecitata da questa proposta, abbiamo accettato di aprire le porte della nostra comunità di recupero per tossicodipendenti alle scuole, agli educatori, ai docenti, perché parlare di dipendenza oggi è importante. E' importante, ahimè, costituisce anche un'emergenza. Purtroppo le dipendenze altro non sono che la punta di un iceberg che viene fuori da un disagio. educativo, quindi le dipendenze sono frutto, ahimè, di un disagio educativo che i nostri giovani vivono. Purtroppo oggi non dobbiamo parlare solamente di droga quando parliamo di dipendenza, dobbiamo parlare di tanto. Lo abbiamo visto in questi anni che l'associazione Emmaus ha deciso, insieme alla fondazione Siniscalco CC Emmaus, di investire sulle attività nelle scuole e sui territori. Noi da 40 anni come Emmaus gestiamo dei servizi, però il limite spesso del privato sociale è che quando svolge dei servizi si dimentica poi del territorio. Allora abbiamo pensato di creare questa opportunità, di riallacciare i contatti con le scuole, con i centri giovanili, con le strade, per poter in qualche modo offrire un'occasione di riflessione, ma anche un'opportunità di cambiamento ai tanti giovani che abbiamo incontrato. Domenico, il periodo che stiamo vivendo, quanto è inciso su questa problematica delle dipendenze? Di fronte alle difficoltà bisogna attrezzarsi in qualche modo e anche noi ci siamo attrezzati. Quest'anno sembrava che non potevamo più andare nelle scuole, non potevamo più raggiungere i ragazzi. Devo riconoscere che abbiamo dei docenti fantastici, nel senso che stiamo riscontrando una bella disponibilità. È chiaro, prendendo in considerazione che non potremo andare in classe in presenza, però non abbiamo avuto delle scuole che si sono tirate indietro. Ci stiamo attrezzando perché lo stesso Open Day sarà un po' diverso rispetto agli altri anni. Mentre gli altri anni avevamo delle classi che venivano in comunità e quindi vedevano la comunità, incontravano i ragazzi, riflettevano, passavano una mezza giornata anche con la possibilità di mangiare in comunità. Quindi la stessa cosa vale per i docenti. Quest'anno la faremo in maniera un po' diversa. Virtuale, purtroppo virtuale, anche se può essere un valore aggiunto. Sì, può essere un valore aggiunto, ma utilizzeremo le telecamere per entrare nella comunità, per vedere la quotidianità di una comunità. Perché quando parliamo di comunità di recupero, parliamo di storie, però parliamo anche di un lavoro educativo straordinario perché per uscire dalle dipendenze bisogna mettersi in gioco e bisogna riprendere in mano la propria vita, bisogna essere accompagnati. Quindi mi piace anche raccontare la fatica in qualche modo e la forza che hanno anche gli stessi educatori, perché dietro ogni percorso c'è uno staff che lavora e di questo ne siamo anche ben coscienti. Uno staff però che non lavora da solo. Per lavorare ha bisogno della famiglia, ha bisogno anche del territorio. Anche perché sono sempre meno i giovani che vanno nei centri spontaneamente. Ecco perché poi l'associazione come la vostra è utile in questo senso. Secondo dati ufficiali si è abbassata ancora di più l'età in cui i giovani ricorrono alle droghe. Quando parliamo di dipendenze non ci riferiamo soltanto alle droghe, ma anche all'alcol, ai giochi d'azzardo per esempio. Come dicevi tu all'inizio, anche se sei un addetto ai lavori, il suggerimento utile è quello di agire sul territorio e costruire delle relazioni. In questo tempo si fa in maniera virtuale. Domenico, quali difficoltà però incontrate da sempre, non soltanto in questo periodo, avete incontrato? La difficoltà è che non si recepisce il problema. Abbiamo anche gli stessi ragazzi, quando noi li incontriamo, inizialmente loro battute, fanno delle battute, viene sottolineato, valutato il problema della dipendenza. Qualcuno ritiene che non è dipendente, però poi quando si portano le storie, quando in qualche modo si mette in faccia la realtà, gli stessi ragazzi entrano in crisi. Io ricordo l'anno scorso abbiamo lavorato con uno spettacolo che si chiama per gioco, solo per gioco, che raccontava la storia di una ragazza, Ludovica. Uno spettacolo che ha coinvolto circa 4.000 studenti che sono venuti un po' da tutta la provincia a vedere questo spettacolo. Era la storia di un adolescente, sola, sola nella sua stanza, che si collegava con, giocava online, con questi mondi virtuali. Inizialmente i ragazzi la prendevano in giro, era considerato un appoco di buono, però poi quando hanno iniziato a vedere il guaio, il problema, la situazione in cui si stava cacciando, beh il loro atteggiamento è cambiato e si sono accorti che la fragilità di Ludovica, la solitudine di Ludovica era anche la loro. E quindi era un appello intanto ai ragazzi a cercare di uscire dalle proprie stanze, no? E vivere più una relazione reale, non virtuale. Dico io, incrociare uno sguardo, abbracciarsi, adesso questo termine è abbastanza pericoloso, però vivere le emozioni, gustare la bellezza di una relazione. E per noi adulti invece l'altro invito è quello, per esempio Ludovica stava sempre in una stanza, la mamma urlava fuori dalla stanza, ma non entrava mai in quella stanza. Forse quel genitore rappresenta un po' noi adulti, che siamo capaci solo ad urlare, ma non a stare, non entrare nella stanza e fermarci con i nostri figli, con i nostri ragazzi. Questo è l'invito che noi facciamo. E poi l'altro invito che viene fuori anche dai nostri percorsi, è un po' l'invito che Giovanni Paolo II diceva che la tua vita fanno un capolavoro, no? E allora l'invito è dire ai giovani che c'è una medicina per suggerire la solitudine, c'è una medicina per prendere in mano la propria vita, è quella di provare a dare agli altri, perché in fondo la nostra vita è un regalo agli altri. Tanti giovani sono figli di questa società che sta diventando molto individualista, allora recuperare con loro la bellezza dell'essere umani. Questo è un passo importante e se riusciamo a fare questo in qualcuno dei nostri giovani che incontriamo, vuol dire che abbiamo fatto bene anche il nostro lavoro. Vero. In un certo senso può essere questo un periodo fecondo, soprattutto per ristabilire le relazioni familiari. Ecco, tu facevi notare l'assenza di un genitore in casa dove la figlia è chiusa in camera e non rendersene conto. I figli sono sempre più fragili, i ragazzi sono sempre più fragili, lo si fa, si casca, questo è anche il termine che utilizzano loro, si casca per curiosità, per gioco, pensando di poterne, di poter decidere subito di smettere, invece poi si entra in una sorta di meccanismo infinito dove non c'è, non si vede fine, non si riesce ad uscire facilmente. Quindi ecco perché l'attenzione e l'ascolto devono essere sempre presenti all'interno delle famiglie, del nucleo familiare, ma anche al di fuori. Domenico, voi fate tantissimo, chi vi conosce vi segue, insomma sa che non vi siete fermati mai anche in questo periodo di emergenza e questa nella dimostrazione. Voglio ricordare, perché siamo al termine del nostro tempo televisivo, i due appuntamenti del 14 per tutti gli studenti del triennio delle scuole superiori e il 21 per i docenti, le famiglie e gli educatori parrocchiali, ma ovviamente si fa anche uno strappo alla regola, ecco se qualcuno che ci segue da casa e non fa parte di queste due categorie volesse partecipare può farlo. Abbiamo una pagina alle formiche coraggiose su Facebook, le formiche coraggiose è un gruppo di volontariato nato da questa esperienza, quindi da domani, lunedì, troverete, cercate le formiche coraggiose, trovate tutte le indicazioni per prenotarvi. Noi ci auguriamo che all'appuntamento del 21 ci siano non solo i docenti, perché i docenti devo dirvi che veramente stiamo avendo una bella esperienza di collaborazione con i docenti, ma che sono delle sentinelle, ma anche gli educatori. Domenico, grazie, quindi diamoci da fare e facciamoci aiutare soprattutto. Un dettaglio delle due giornate, c'è l'accreditamento in remoto sulla piattaforma Zoom alle 9.45, sia del 14 che del 21 alle 10, la visita virtuale del villaggio Emmaus e la presentazione dei percorsi di accoglienza, proiezione video sulle attività di Emmaus, delle testimonianze, tu ce n'hai data anche una oggi così in diretta, spazio poi alle domande, perché sono necessarie per avere delle risposte e una sintesi finale. 14 e 21, noi avremo la possibilità al 99% il 21 di mandarla anche sulla nostra pagina Facebook di Padre Pio TV, questa diretta Zoom, speriamo bene, incrociamo le dita, dovrebbe essere così. Noi ti ringraziamo Domenico per quello che fai tu personalmente e l'associazione. Grazie a voi per la vostra sensibilità, perché c'è bisogno di questi messaggi e di questi spazi. Buon lavoro a tutti voi. E a te e all'associazione, a disposizione sempre. Buona domenica. Grazie.